Sei pronto a fare la tua parte? In una community fare la propria parte significa prendersi cura degli altri. Vuol dire aiutare chi ne ha bisogno. Difendere il lavoro da ogni minaccio. E per farlo ti basterà entrare in vittorie assicurazioni. E tu sei pronto. È il momento di parlare di sport. Calcio, potassio, magnesio. Chi fa sport sa che acqua Oliveto reintegra questi preziosi minerali. E permette un recupero più veloce. Così eviti la disidratazione, migliori la performance sportiva. E salvaguardi la tua salute e quelle delle tue ossa. Per questo scelgo Oliveto. 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 Perché Oliveto è Oliveto. L'acqua di chi vive lo sport. Oliveto. L'acqua per lo sport italiano. Torna protagonista del tuo tempo. Con un nuovo SUV Peugeot 2008. Oggi 100% elettrico. Da 149 euro al mese. Peugeot. Vorrei prendere questi pantaloni. Li piacciono? Meravigliosi. Ma dici che si avvinano bene al mio panciotto? Poi si avvinano con tutto. E allora li prendo. Sì, assaggiali. Ma che li comprati? Eh sì. Ma non ci vai in giro? Strati su strati di sfoglia fragrante. Cracker pavesi. Il gusto unico. In mille e milla modi. Nasce un nuovo modo di stirare. Imetec Onda. Il primo ferro da stiro con piastra a onde. Elimina le pieghe già dalla prima passata. Per risultati perfetti, senza fatica. Onda. Il ferro del futuro. Imetec. L'Italia delle idee. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rock star internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 257 del Digitale Terrestre. E dalle 11 alle 14 segui la diretta di Personal Giulia con Giulia Salvi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio. Style Rock. Perdere peso è difficile, lo so. Ma io ce l'ho fatta. Con XLS Medical Forte 5, in aggiunta a dieta e movimento, hai 5 benefici in uno. Per ridurre il grasso preesistente, taglie e centimetri su fianchi in vita. Con XLS Medical Forte 5, perdi peso anche tu. Cogli l'attimo, non i chili di troppo. Nuovo XLS Chilo Attack. Provalo ora. Nuova linea per capelli DAV. Cosa raccontano i tuoi capelli? Uso la piastra, perché mi fa sentire bene. Coloro i miei capelli per esprimere la mia personalità. Cambiamo stile per sentirci uniche. Li lascio al naturale per sentirmi libera. I miei capelli cambiano sempre, proprio come me. Non importa cosa fai, DAV si prende cura dei capelli danneggiati. Nuovo DAV ricostruzione intensiva con tecnologia Smart Repair. Nutre i capelli e ne ripara con precisione i danni. Nuovo DAV, per capelli bellissimi, pieni di vitalità. Un uomo è nel deserto, in mezzo ad un inseguimento. No, sta tornando a casa. Quando? Nuova Jeep Compass, tua da 269 euro al mese, con due anni di manutenzione e quattro di garanzia. Pescetto, domani ti porto in un acquario e con questo puoi fare delle foto pazzesche. Quest'anno Wind 3 ti dà di più. Samsung Galaxy S21 da 9,99 euro al mese, con la rete 5G. E in più con Reload Plus ogni anno. Lo puoi cambiare con un nuovo modello. Saceriamo. Wind 3. E se ti dicessi che in esse lunga siamo sempre alla ricerca delle ricette più autentiche, degli ingredienti più buoni. E cuciniamo i nostri piatti con quel tocco in più che li rende speciali. E se ti dicessi che tra i cinque strati delle nostre lasagne troverai ragù preparato con i migliori tagli di vitello, grana padano d'off e un abbraccio di besciamella, come le faresti tu. E se non ci credi, vieni a provare. S lunga, più la conosci, più ti manuri. Allora, è carica? Pronta. Sorprenditi nelle lunghe distanze. E in quelle più brevi. ID 4. 100% SUV. 100% elettrica. Da 299 euro al mese. Tanne 4,99. Tagli 5,80. Volkswagen. Volkswagen. Tranquillo. Le risposte che cerchi te le offre Reale Mutua. Oggi con Virtual Hospital hai sempre un medico a portata di click. Chiedi a un agente Reale Mutua. Prima della sottoscrizione, leggere il chat informativo su realemutua.it. A Riccardo piace ascoltare il suono del caffè che sale dalla moca. E da quando ha scoperto le nuove nastrine al cioccolato, gli piace morderle prima da un lato, poi dall'altro. Fragrante pasta sfoglia e cioccolato nelle nuove nastrine mulino bianco. ARRENDITI 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 Disney Plus è arrivato su SkyQ. Tutto quello che ami in un unico posto. Facile. Chiamaci 02 80 80 o vai su sky.it Italia 1 Divisione EDI Terzo battaglione Quinta Marina L'obiettivo non è qui Era il suo primo giorno di lavoro Mi sono mentata, la faccio entrare Tu sei la testimone Non voleva Sono 25 milioni Devi promettere che mi proteggerai Hai la mia parola Diventasse l'ultimo Qual è il piano? Prendere tempo e far fuori più uomini possibile Security Domani sera 21 e 20 Italia 1 Chi sta si chiama Meraviglia Che mi piglia e scompiglia Aveo colori do sole Aveo sapori do mari Vanno Macalo mi sento tutto priato Per chi ti lascia Senza ciato Birra Messina cristalli di sale La Sicilia si sente Che mi piglia e scompiglia